608 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo, il più piccolo tra i contagiati a 4 mesi, il più anziano 97 anni. 11.756 è il numero dei test analizzati, tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività complessivo del 5,1%. L'area più colpita è il Pescarese, con 274 nuovi casi, seguono il Chietino con 147 casi, l'Aquilano con 113 casi e il Teramano con 99 casi. 13 dei contagiati invece provengono da fuori regione. Servono misure più restrittive, ha dichiarato il direttore della clinica di malattie infettive di Chieti, Jacopo Vecchiette. Noi è già da qualche giorno che abbiamo la sensazione che i numeri non scendano. Inasprire in qualche modo le norme e le misure di circolazione delle persone in questo momento potrebbe avere una doppia valenza, perché ci darebbe un vantaggio sulle vaccinazioni e probabilmente ci metterebbe in condizioni di affrontare i mesi estivi con una percentuale di virus nel territorio ancora più bassa. 37 il numero di decessi è registrato oggi, di cui 12 sono avvenuti nei giorni scorsi, 906 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 12.898 positivi accertati, 335 in meno rispetto a ieri. Di questi 661 pazienti, meno 8 rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica. 4 in più, con 9 nuovi ingressi, sono ricoverati in terapia intensiva, dove è occupato il numero record di 91 posti letto. Con la situazione attuale, meglio non riaprire le scuole, ha detto il professor Vecchiet, commentando l'ipotesi di vaccinare, insieme al personale scolastico, anche gli studenti. I ragazzi si contagiano di più, ma per fortuna non si ammalano. Abbiamo imparato che contagiarsi per fortuna non significa sempre ammalarsi. In questo momento la sua riflessione che io condivido, cioè dovremmo vaccinare anche i ragazzi, non è così facilmente attuabile perché è innegabile che noi dobbiamo dare una gerarchia di necessità. Quindi i ragazzi che nella percentuale maggiore si contagiano ma non si ammalano, sono in qualche modo, dovrebbero essere protetti dopo aver protetto le categorie che sono più a rischio, quindi le persone anziane, le persone, gli over 50, il personale della scuola. Questa logica diventa tanto più vincente quanto più noi però teniamo le scuole chiuse, a mio parere.